Carpanzano, grandissima partita, Pescara alla Final Four, un sogno che si realizza. Sì, diciamo che tutti sognano di cominciare la stagione il 20 d'agosto e trovarsi a questo punto. Ce n'è passato tanto tempo di mezzo, tante vicissitudini, ci siamo arrivati, meritatamente posso dirlo, e siamo felici. Il campionato non è ancora finito, però per il momento festeggiamo e poi cerchiamo di mettere la ciliegina sulla torta finale. La partita? Sapevamo che non è che potevamo entrare in campo come gara 3 e pensare che i giocatori di Salerno, che sono comunque giocatori che sono sempre arrivati a questo punto del campionato, si arrendessero. La gara 3 è andata in una maniera, ma noi sapevamo che la gara 4 sarebbe stata una partita complicata, ci siamo preparati a soffrire, soprattutto quando sono rientrati, abbiamo dimostrato che c'eravamo con la testa, magari potevamo pensare che si arrivava a più 16 e fosse finita, invece siamo stati là a soffrire pallone su pallone, anche contro magari due o tre situazioni, due bambini di tabellone, però alla fine la squadra ha dimostrato quello che vale e abbiamo portato a casa la partita. Vale tanto? Vale tantissimo, vale tantissimo perché questi giocatori hanno dimostrato il loro valore e vincere una serie di finale così, anche una semifinale 3 a 0, abbiamo dimostrato di valere tanto sul campo e siamo felici di questo.